Io sono Francesco Tortorelli, uno studente dell'Istituto Carilei Costa di Lecce, ho 15 anni e frequento il secondo superiore. Sono responsabile di qualche start-up e ne sono felicemente. Se devo essere sincero, il professore Manni ci ha spinti letteralmente a partecipare su questa sera, però ne sono veramente contento perché è comunque un'occasione per imparare anche a parlare ad un pubblico vasto ed è sempre un'esperienza positiva e ti forma. Il professore mi ha ispirato tantissimo, infatti io prima della fine delle scuole media avevo totalmente un'idea di un percorso diverso di vita, però quando è venuto lui a fare l'open day mi ha spiegato questa cosa delle start-up, di tutto quanto questo ecosistema e ne sono veramente rimasto ammaliato e mi ha convinto e sono venuto in questa scuola dove studio adesso. Tra dieci anni credo che ovviamente tutto è un mistero, però potrei anche essere responsabile di qualcosa di importante o se no comunque avere un normale lavoro da dipendente perché questa scuola me lo offre e mi permette anche di puntare molto in alto. Grazie. Grazie.